Ma voi lo volete frequentare o no, vostro padre? No. Il padre che adesso chiede perdono, che dicono che a tirare il plagio... Punti di vista, storie private, esperienze. Non si arriva a questo punto senza un motivo. Che adulti e ragazzi, figli e genitori mettono a confronto per incontrarsi e conoscersi. Anche se tu volessi tenerti dalla parte, non piace quando metti il colpo. Maria De Filippi conduce Amici di Sera. Mercoledì, 20.40, canale 5. Con l'energia naturale del malto d'orzo, le fette biscottate si arricchiscono di gusto e salute. Da oggi sono più sane, più buone. Nuove fette al malto d'orzo. La salute vi è mangiando. Chi mangia sano trova la natura. Anche a Venezia. È finita l'attesa. C'è Maglia Amica, la nuova guida pratica per creare la tua maglia. Le schede scuola per imparare. Punti, modelli, segreti, mille idee. E tutto il calore del tuo amore. Maglia Amica è in edicola con la borsa maglia. Fabri Editori. Il mio lavoro si basa su quello che vedo e su come lo vedo. Ho scoperto di essere presbite. Ho bisogno degli occhiali per leggere, per lavorare, per guardare lontano. Ora il mio ottico mi ha proposto una soluzione sola. Le lenti progressive. Dalla tecnologia Sola Optical, le lenti progressive. Per vedere lontano, a media distanza e vicino, con un solo paio di occhiali. Adesso sì che ho qualcosa di nuovo per vedere. Sola Optical. Migliora la vista. Migliora la vita. Signorina, la pratica 262, per favore. Subito. DOX, coordinati per ufficio. Sono passate solo poche settimane dal lancio. E Fiesta è già stata scelta da migliaia di italiani. I concessionari Ford sono a vostra disposizione per farvela provare. Ford consiglia a tutti di acquistare Fiesta soltanto dopo averla provata. Ford Fiesta. Finisce l'era delle utilitarie. Cosa vi faccio? Un bel salsa di quattroformaggio o un pesto alla genovese? Buono questo pesto, ma come lo fa Diego? Basilico, olio, grano, minoli, aglio, conservare in frigo. Bultoni. Star bene a tavola. Kinder Fetta al Latte è la merenda con tutta la freschezza del banco frigo. Perché solo Kinder Fetta al Latte è fatta con il 36% di latte fresco pastorizzato. Una goccia di miele, una fetta di morbido pan di spagna. Senza coloranti né conservanti. Cosa vuoi di più per i tuoi ragazzi? Che fame! Kinder Fetta al Latte è per tutti. Kinder Fetta al Latte. Sai com'è fatta. Sai cosa mangi. De Agostini presenta Collession du Cinema Francais. Il grande cinema in lingua originale. Per un francese a prova di film. In edicola tre uomini e una culla a sole 7.900 lire. De Agostini. In occasione del centenario della Gazzetta dello Sport, grande serata di sport e spettacolo. Domani sera con il Galà del Calcio, FIFA World Player of the Year 1995. 190 commissari tecnici di tutte le federazioni eleggeranno il miglior giocatore mondiale dell'anno. In lizza l'ex interista Jürgen Klisman, attaccante del Bayern Monaco. Paolo Malvini, difensore del Milan e della Nazionale. Giorgio Ea, attaccante liberiano del Milan. Durante la serata altri premi alla carriera, al giocatore emergente e alla migliore nazionale. Dal Teatro Nazionale di Milano, Mike Buongiorno e Antonella Elia presentano il Galà del Calcio Mondiale, FIFA World Player of the Year 1995. Domani sera dalle 20.30 in diretta su Italia 1.